Buongiorno a tutti, Blue Financial Communication è una media company, quindi noi facciamo i giornali. L'ultima presentazione che ho fatto a Lugano ha detto noi facciamo i giornali i giornali sono morti, i miei colleghi erano già in grave difficoltà, hanno cominciato a guardarsi attorno, in verità i giornali non sono morti ma moriranno presto, ne siamo coscienti, consapevoli, avverrà nei prossimi 10 anni, ma l'esigenza di informazione che sta dietro al mondo della finanza, quella non morirà mai, anzi come ha detto Antonello Sanna aumenterà. Quello che aumenteranno e cambierà sicuramente saranno le modalità con cui il mondo dell'informazione viene portato al pubblico finale e per poterlo fare bisogna avere la possibilità di gestire tutti gli strumenti informativi, quindi bisogna andare in un'era digitale, un'era digitale che ha uno svantaggio enorme, che non si guadagna una lira. Quindi in questo momento chi punta sul digitale perde, chi fa giornali è convinto e sa che perderà e il mix dei due comincia a rappresentare una soluzione, però una soluzione che ha dei tempi che sono incerti per tutti quanti. La terza soluzione è quella di aumentare le testate e quindi l'opportunità di vendere nuovi prodotti, ma i nuovi prodotti costano e quindi vanno fatti con una logica molto razionale e molto attenta. Noi puntiamo sugli eventi, gli eventi come questo momento in cui noi ci incontriamo sono un momento molto importante per la vita delle aziende, hanno dei costi, ma hanno anche degli ricavi che sono ben allargati, costi-benefici molto importanti in termini di benefici e ultimo abbiamo scoperto che la televisione per gli italiani è ancora fondamentale, la gente guarda e si informa in televisione e quindi recentemente abbiamo fatto un accordo per entrare nel mondo delle produzioni televisive perché l'informazione finanziaria si fa anche in televisione. Questo è il punto da cui noi partiamo e oggi vi racconterò come vogliamo sviluppare nei prossimi anni tutte queste combinazioni integrate. Ho cominciato dalla fine. Noi abbiamo cominciato 20 anni fa a informare il mercato finanziario e siamo una casa editrice specializzata nel mondo dei prodotti finanziari, quindi i prodotti finanziari, la distribuzione dei prodotti finanziari, come si costruiscono, come si vendono e qual è. Quindi è una nicchia molto favorevole perché è una nicchia molto verticale ed è una nicchia molto ricca. Noi abbiamo in questo momento 340 clienti, sono tutte banche, assicurazioni, gestori, chi vuole parlare al mondo dei consulenti finanziari utilizza normalmente i nostri canali. Negli ultimi anni ci siamo resi conto che solo la nicchia del mondo dei prodotti finanziari era limitativa, ci siamo quotati e abbiamo puntato ad allargare la nostra gamma e vi faccio vedere cosa abbiamo fatto. Intanto abbiamo cominciato a creare una logica e una cultura digitale con nuovi prodotti, aperta una sede a Londra e Hong Kong per un progetto che è un progetto di social network che si chiama Guruf di cui vi parlerò dopo. Abbiamo creato e consolidato la nostra struttura di produzione. Allora non esiste nessuna macchina operativa che possa avere un successo se non è organizzata e ha un core business ben definito e il nostro core business è trattare le informazioni. Il web da solo o pochi ragazzi che organizzano i dati non servono o non servono a fare un progetto di successo, bisogna avere un team, quella che noi chiamiamo newsroom, capace ogni giorno di trattare le notizie. Noi trattiamo in questo momento con 50 giornalisti interni e quasi 150 collaboratori esterni la bellezza di 300 notizie originali e mandiamo qualcosa come 200 mila newsletter tutti i giorni ai nostri utenti in modalità differenziate. L'obiettivo nostro è offrire al mercato una serie di servizi che consentano di fare un mix di ricavi che ci consenta di sopravvivere e di prosperare addirittura nel prossimo futuro. Vi faccio presente che la più grande azienda mondiale in termini di utile che si chiama Google, una delle più grandi, è in questo momento una media company, fa il 90% dei suoi ricavi da pubblicità. Poi è nata come aggregatore, però purtroppo è diventata una compagnia che informa e fa pagare per l'informazione. Due anni fa abbiamo fatto un accordo con gli americani di Forbes per portare in Italia la licenza di un brand che per noi era fondamentale per uscire dalla nicchia dei prodotti finanziari. Forbes è il brand mondiale riconosciuto come numero uno per la business community. Andare su Forbes significa vincere l'Oscar. Chi va su Forbes ce l'ha fatta. Noi abbiamo preso un giornale, abbiamo la possibilità di lavorare su circa 4 mila collaboratori che sono in giro per il mondo, possiamo usare le loro foto, i loro articoli, tutto quello che ci serve. Però abbiamo anche capito che per il mercato italiano dovevamo fare un prodotto ad hoc per il mercato italiano e abbiamo fatto una struttura che attualmente produce il magazine e tutta la struttura che sta dietro Forbes. In questo momento Forbes noi abbiamo 128 clienti extra settore, da BMW a Rolex, tutti i clienti che non avremmo mai avuto se rimanevamo nel segmento verticale della consulenza finanziaria. Quindi Forbes ci ha dato un allargamento di mercato e il nostro prodotto tradizionale che si chiama Blue Rating continua a essere un prodotto importante, facciamo una cifra di circa 2 milioni all'anno di fattorato, ve lo faccio vedere dopo, cosa è più facile. Qui noi siamo orientati al mondo della distribuzione di servizi finanziari, quindi banche, assicurazioni, consulenti finanziari. Un altro prodotto che è nato alcuni anni fa si chiama Private, è il magazine del Private Banking, sopra di noi stanno preparando la sala, ci saranno oggi i Private Banking Awards, ci saranno 300 persone invitate all'evento e noi ogni anno premiamo l'eccellenza in questo settore. Questo ci consente di essere relazionati con questo mercato in modo assolutamente privilegiato. Abbiamo lanciato quest'anno un nuovo prodotto, si chiama Asset Class, in questo prodotto noi mettiamo tutti i prodotti finanziari dal venture capital, le start up, anche crypto asset, cioè tutto ciò che è innovativo entra nel giornale asset, facciamo un po' di classifiche e facciamo anche un po' di visibilità per i protagonisti del mercato. Questi signori che vi ho fatto vedere, distributori, banche, gestori, investono in pubblicità, non investono in pubblicità in modo diffuso, investono sui canali verticali, ma sono buoni, ottimi clienti. Contemporaneamente abbiamo lavorato sui siti e abbiamo attualmente sei siti attivi e facciamo quello che Digital Magic raccontava prima, facciamo da start up, da incubatori dei nostri progetti. Potremmo fare tante società per ognuno dei nostri progetti, ma ovviamente hanno un costo, quindi per il momento ci limitiamo a fare, incorporare il progetto, farlo crescere e poi eventualmente farlo andare da solo. Ve li presento brevemente. Allora, prima vi faccio vedere, ma vi presento i progetti perché per me è importante. Allora, force.it l'abbiamo lanciato quest'anno, ci avevano rubato il dominio dei signori che stavano in Moldavia, quindi ci abbiamo messo un anno a recuperare il dominio, perché quando c'era force.it si andava da un'altra parte. Abbiamo fatto una causa legale, abbiamo ottenuto il dominio, adesso possiamo partire con force.it. Il sito è partito molto bene, pensiamo di essere in termini di responsive il primo sito in Italia, ci mette 0,083 secondi a caricarsi sul mobile. Ha un pubblico molto particolare, perché è un pubblico al 90% che lo guarda sul mobile, però è un pubblico veramente di altissima qualità. Attualmente il primo mese ha fatto 500 mila visitatori unici, quindi noi pensiamo di poter arrivare al nostro obiettivo che è un milione di visitatori unici al mese. Il secondo progetto che abbiamo lanciato è Blue Academy. Il futuro dell'informazione e della cultura passa attraverso l'informazione e non tutto può essere fatto in aula, è troppo costosa. In questo momento noi stiamo mettendo insieme una serie di momenti formativi che potranno essere fatti anche via web o in partnership con i nostri clienti, lo porteremo sul mercato italiano e abbiamo creato un sito, attualmente abbiamo qualcosa come 120 corsi attivi. Il terzo prodotto che stiamo incubando è Blue Advisor, una piattaforma fintech. Abbiamo creato un sistema che consente ai consulenti finanziari al prezzo di 9 euro al mese, di rimanere aggiornati, al prezzo di 49 euro al mese di avere tutti i servizi amministrativi e anche quelli legali, le famose 70 pagine che diceva prima Sanna, al prezzo di 150 euro mensili la possibilità di avere portafogli, gestione e attività per quelli che vorranno fare i consulenti indipendenti. Quindi noi abbiamo fatto un prodotto che servirà nel prossimo ventennio a consentire ai consulenti finanziari di operare. Abbiamo anche attivato la prima iniziativa blockchain che è legata a Blue Advisor. In questo momento la blockchain è su Blue Advisor. Se voi andate sopra c'è un sistema esternalizzato che dice che il soggetto che vi sta contattando è effettivamente iscritto all'albo e non è soggetto a sanzioni. Col tempo porteremo la blockchain su tutte le iniziative di Blue Advisor con esternalizzazione di tutti i controlli, di tutta la documentazione che si può fare. Questo prodotto parte adesso. Guruf è un social network, stiamo lanciando un ICO a Hong Kong, un token che consentirà di creare cultura e di fare tutta una serie di servizi legati al mondo del social, una specie di Trip Advisor della finanza. Di sopra abbiamo caricato qualcosa come 700 scompagnie in Asia, 250 in UK e circa 300 in Italia e il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Come vedete tutti questi progetti sono a revenue zero e investimento alto. E noi li facciamo con grande entusiasmo perché sappiamo che il futuro sta qua. Contemporaneamente facciamo eventi in tutta Italia. Fiere a Rimini e in questo momento alle Stelline e all'IT Forum. Ci sono iscritti 2.428 persone all'IT Forum delle Stelline, quindi siamo soddisfatti. A Rimini facciamo oltre 5.000 persone all'anno a questa fiera. E come vi dicevo all'inizio il cuore di tutto è la newsroom. All'interno delle newsroom si organizzano le informazioni, si gestisce il lavoro e si fa in modo che la stessa informazione vada erogata in modalità completamente diverse. Ci siamo resi conto nell'ultimo periodo che la televisione ci poteva dare una mano. E quindi abbiamo detto che è necessario imparare a produrre format televisivi che non devono andare sulla televisione ma che devono andare sui canali video che in questo momento stanno per dominare il mercato dell'informazione. Lo stesso prodotto voi lo potete utilizzare sulla vostra piattaforma, lo potete mettere sui social, lo potete mettere sul sito vostro, mandarlo sulla newsletter e Dulges in fundo lo potete mettere sulla piattaforma. Noi abbiamo fatto un accordo con Rete Economy, il canale 512 di Sky e anche sul digitale terrestre e noi vogliamo diventare i primi produttori video per il mondo professionale. Quindi avvocati 200.000 in Italia, commercialisti 200.000, operatori del mercato finanziario 100.000. Quindi 500.000 persone che potranno vedere i nostri programmi e noi ci concentreremo nella produzione di questi programmi. Abbiamo cominciato già a produrre qualcosa, lanceremo il 22 di gennaio il Palinsesto. Ci sarà anche un programma che si chiama I Love AIM con Lady AIM che sarà all'interno del programma stesso e anche se dovremmo dire io odio AIM perché i prezzi dell'AIM sono inguardabili. Abbiamo in questo momento un telegiornale tutti i giorni, i Blue Lighting News, gli eventi, Asset in the City che viene fatto da Londra e Forbes Leader. Questi sono i 4 former che abbiamo sviluppato questo mese. Nell'ultimo semestre, l'ultima semestrale, noi abbiamo fatto più che nell'anno precedente. Più 72%, un EBITDA di 458.000 Euro su 6 mesi, che è circa il 15% del nostro fatturato. Attenzione, questi dati e questi risultati noi li facciamo continuando a investire per produrre le altre iniziative. Quindi tutto autofinanziandole con la cassa che riusciamo a fare. Quindi, tanto per darvi un'idea di quello che noi pensiamo di fare, noi da 3 milioni dell'anno scorso passeremo quest'anno al fatturato di 6 milioni di Euro. 3 milioni li facciamo con il magazine Blue Rating, con la pubblicità. 2 milioni con Forbes. 1 milione con il Digital su Blue Rating. e 1 milione con gli eventi. Come voi potete vedere, nessuna di queste linee da sola potrebbe sopravvivere. Solo aggiungendo prodotti a prodotti, noi riusciamo a raggiungere 6 milioni, che è il minimo che ci consente di avere una redditività. E di continuare ad investire su quelle che noi chiamiamo Startup, che sono 5 progetti. di finanza operativa per il mondo del trading, Guru Fund Social Network, Blue Academy, Blue Advisor e la produzione video. L'obiettivo per l'anno prossimo è aggiungere e arrivare a 8 milioni. Quindi noi, solo sviluppando i progetti che abbiamo già in corso, pensiamo di continuare a crescere, arrivare agli 8 milioni. Il nostro obiettivo è quindi passare da 670 mila Euro di fatturata a 8 milioni in pochi anni. Attenzione, il mondo dei media è in crisi, ma chi dominerà il mondo digitale dei media domina il mondo. È un po' forte, però un signore che aveva un sacco di soldi si è comprato Time per 200 milioni di dollari, che è una roba in perdita. La famiglia Elkan ha The Economist, pur avendo venduto tutto quello che c'è in Italia, perché gli dà potere nel mondo. Chi controlla i media ha un potere enorme. Il nostro titolo non lo sa, infatti siamo stati a 2 Euro per tanti anni e improvvisamente siamo andati a 1 Euro. Non sappiamo cosa farci, non sappiamo cosa dire, noi cresciamo, raddoppiamo, diamo qualità, eppure il risultato è questo. Il nostro obiettivo del piano quinquennale annunciato al mercato è chiaro, raggiungeremo 10 milioni di ricavi con 2 milioni di EBITDA. Se il moltiplicatore normale che viene applicato a questo mercato è per 10, la nostra azienda dovrà valere 20 milioni. Il nostro obiettivo, la nostra promessa, lo dichiariamo pubblicamente. Le azioni in circolazione sono circa 3 milioni, pensiamo che il valore corretto potrà raggiungere 6 Euro ad azione. Siamo attualmente a 1 Euro. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.